Bella a tutti ragazzi, benvenuti su Geek Island, io sono Sasha e oggi siamo tornati su Ender Ring per fare un nuovo episodio in compagnia di Melly che è direttamente dietro di me e dietro a Melly c'è il buon Simo Killer Ciao Buonanotte visto l'ora che stiamo registrando tutte e due Allora, oggi cosa facciamo? Siamo appena entrati all'Accademia quindi dobbiamo proseguire, io non so assolutissimissimamente nulla di nulla quindi, a parte gli stronzi che abbiamo visto all'ingresso alla fine dello scorso episodio devo esplorare molto molto bene quindi bisogna andare con calma ragazzi, non lasciate, soprattutto te Simone e ti ho chiamato Simone e quindi? quindi è serio? ti ho chiamato la mamma non ho capito ho detto, è quello che mi ha dato la mamma quindi, è giusto è come nei film, quando ti chiamano per intero vuol dire che sono seri, molto arrabbiati bravo scusa, glielo ho dovuto spiegare che lui è così non c'è niente di serio in questa vita ok, come no allora dobbiamo semplicemente bravo, bravo tu uccidi, tu uccidi a te ti abbiamo aspettato per le invasioni se qualcuno ci invadi tu lo picchi semplicemente va bene va bene ok, intanto io sto esplorando con un pezzo di merda sono belli dure tutta la mia te l'ha ciucciato tutta non sei contento oh, imitazione di grazia che non è la prima che troviamo e questo potrebbe essere che si tratti di breve pausa decisamente ma noi dobbiamo andare lì io mi sa che ho perso qualcosa ah no, si deve andare qua sotto ok vi piace questa zona voi che l'avete già fatta? si si soprattutto più avanti che bello proprio bello ok, qua ci sono già andato è pieno di sti stronzini mi hanno accolto i machi tra l'altro io li ammazzo in tre gol non so voi ma ce ne vuole aspetta no niente tutti mi hanno ciucciato tutti i punti in mana ok vediamo quanto gli togliamo eh, non è che gli togliamo molto eh anche con un backstab loro continuano a ricicciare fuori o no 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 ok, fegato erano solo nascostissimi tra le frasche ok fegato antimagia vieni qua Chimo eh? qua, devi stare qua vicino a me nooo devi essere la mia ombra non puoi andare avanti c'è un cane c'è un cane figlio della puttanissima capito? come facciamo a goderci queste scene se tu vai avanti ah, vi hanno rimessi eh, la start mamma mi sono usciti hhh e loro come li sussiti? quanto le odio quanto le odio quanto 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 li detesto Non mi ha fatto a vedermi, son morto Ok, siamo tornati qua e ho trovato le ceneri di questi due stronzi Perfetto E mi stavano uccidendo Zampa E' tetra sta zona, è molto tetra Mi aspettavo una cosa un pelo più fattiscente Cioè non fattiscente, al contrario E' una zona fattiscente e mi aspettavo una cosa un po' più Di classe Sì, ma più piena di sfarzi, robe Poi magari più avanti ci sarà Perché avendo visto l'ingresso Sicuramente Questa quant'è mana che ti ciuccia Sì, a me me l'ha ciucciato tipo tre quarti Mentre veniva un po' Invece giovani come siete messi? Una che non avevamo nemmeno iniziato a registrare Praticamente Io sono andato qua giù Come ci siete? Eh, figlio della bruttanissima Ok, ecco sì Ah, cioè Se finisci il mana ti lascia Uh, elmo da cavaliere Cariano Ah, è il suo asset del cavaliere Quello con cui inizia Mi sa di sia Ehi, guarda qui Ehi, guarda qui Eh, sì È come lo faresti tu ma più in grande Sì, proprio Tra l'altro Ecco cazzissimo No, da qua non ci si arriva mai nella vita E ma come risaliamo? Ah, c'è il sentiero Lucina? No È vero la lucina Ecco qui Qui è dove Dove erano quei due stronzi Sì, sì Sì Ah, lo diciamo per Per capito Per essere chiari Io però mi sono Credo di essermi Ufficialmente perso No, no, no Giusto, giusto No, non ti sei perso Voleva a me Sì Sì, solo ed esclusivamente te Questa zona invece E chi è? E questo che cosa è? Eh, vai Grazie, grazie, grazie Grazie, davvero grazie Grazie, grazie Ma perché io non lo posso prendere? No, ce l'ho con me fortissimo Vado Non me lo fa prendere a me Sì, sì Te lo fa prendere Fa prendere E che se io No, 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 no Cerco di Vai Aspettare No, vedi che non me lo fa prendere Sì, sì Te lo fa prendere No O è resistentissimo Guarda Al sideramento Io non gli facevo un cazzo allora Eh, io Due colpi Lo scioglie? Eh, sì No Vedi che adesso non esce Da me sì È riuscita Non è che esce in base all'orario del giorno? Ah, qua Qui c'è un droppino Perché a me non è uscita No, ho già preso Adesso che ci penso Non lo so Troppo qualcosa di fico? Non mi ricordo Allora andiamo Vero proprio Adesso è mattino Quindi non ho visto prima Sera notte o Sinceramente non Non rimembro Non è che ti vuoi Ok, ma questo è altissimo È quello che c'è Ucciti anche In spiaggia Pozzo gravitazionale Ok, ci ho dato Un enchant Perfetto C'è solo qua Questo qua Immagino Buono Io devo ricordarmi Di metterle Fiaschette E quindi qua Cosa facciamo? Il saltino Della fede? Eh sì Eh ma io non so Dove dobbiamo andare Però Noi ti seguiamo A me se mi butto giù Vi buttate giù anche voi Tu che sei? Eh un povero E umile lavoratore Non ho dato se volevo parlare Mi sono dato del pirla da solo No No perché ti inchieni Sì inchieni La telecamera O a me Ok Droppini Dardo cristallino Buono I dardi servono sempre Quando ci sono le zone strane E c'è un droppino Che questo non l'avevo trovato Qua nella mia partita Vaffanculo Tu vai dritto Per dritto Non ero venuto Di ero qua Ma qua c'è il modo Per scendere Va bene Va bene Ok Di qua siamo andati Di qua siamo già andati Non mi ricordo Sì Sì Ho visto che c'era una Qua dentro Sì Entriamo nella Oh c'è il falò Sì Quindi più su di così Non si poteva andare O sì Sì Ma non Di qui No no Da qui Ah no Su dici No 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 Su sul Ma No 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 Qua al massimo E volendo Quella è la strada Per scendere Ok Stavo Stavo guardando La registrazione Se andava E mi sono Compenetrato Stavo correndo Contro un albero E proseguiamo E la madonna Salve dottore Tu perri Vero Con quel E io qua Prendo i cazzi in culo Fortissimi Però Che bello Questo pezzo Sì Ma io ho visto Un droppino qua E non mi fregate Come è possibile Che non cada nulla Dal soffitto Perché deve cadere Qualcosa dal soffitto Scusami Perché è un gioco Del genere All'entrata Ci sono I I tizi Che cadono Il recitario Dell'artigiano Scintipietra Buono Hai trovato Qualcosa di interessante Sì Meno male E c'era un messaggio A terra Pietra La forgiatura Ah e basta Esploriamo Esploriamo Il problema Che poi Non so come si risale Sappiatelo Allora Aspetta Che scegliamo Cioè Non so Va bene Che cazzo È successo Mi era uscito Scritto È superato I confini Dell'area Multigiocatore Mamma mia Porco Dinci Maschera Scintipietra Di Ol B Minus E anche io In tre Pirla Ho trovato Una maschera Scintipietra È quella che usano Anche Cioè che usano Gli streghe Gli stregoni Aspetta 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 Porco Mi sono cagato addosso Ho stretto il culo Tantissimo Abbiamo fatto Tutti la stessa cosa Abbiamo fatto Una delle maschere Scintipietra Conferite Agli eruditi Di Raya Lucaria I cui studi Erano ritenuti degni Incremento L'intelligenza Riducendo i PV No Anche non la metto La stirpe Dell'epitome Di Olivinus Nacque con lo Stragone Lusat Ora i suoi seguaci Portano avanti Lo studio Delle meteore Ok Tra l'altro Adesso che ci penso I I simboli Quelli che ci Teletrasportano qua Non sono uguali A quella torre Che abbiamo fatto Insieme Due o tre episodi fa Quindi qualche giorno fa Per voi Me ne ricordo Di quale torre Stai parlando Tu hai capito Melly No Ma dove c'erano i campanini Aspetta Prima di tutto Quali simboli Quello che ci Teletrasportano qua Si 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 Vero Ok Quella con le tartarughe Che doveva Che pensavamo ci fossero le tartarughe Invece non ci sono E c'era un enigma da risolvere Che non Ma in tutte le torri C'è quella cosa lì Quindi immagino Siano state sigillate Dagli stregoni Anche in quella Delle tartarughe C'era lo stesso simbolo Si ma visto che non riusciamo ad aprirlo Magari non è che troviamo qualcosa qua Che ci permette di aprire quella torre Può darsi Può darsi Può darsi Può darsi Siamo arrivati Infatti L'enigma che cos'è che diceva Tipo possa la saggezza illuminarti la via Se non mi sbaglio Eh appunto La saggezza Questa è un'accademia Ci sta Potrebbe starci tantissimo Più che altro perché Come in Non so se Eh no Non posso dire Non ci sei tu Perché ci sono alcune cose Che si sbloccano Indossando cose Si Io ho visto Ti è rotolato dietro Impossibile aprire da questo lato Quanto li odio Facciamo il prompt dei comandi Facciamo il prompt dei comandi Sì un cazzo che si frega No 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 Oddio che succede? Buon occhio Madissimo Ok mi ricordo esattamente dove siamo Allora io mi ricordavo tutto qua Adesso sì no Cioè mi ricordo le singole zone Ma non riesco a collegarle fra di loro a volte Ma non riesco a collegarle fra di loro a volte Però adesso sì Adesso mi ricordo Sì sì almeno so dove stiamo andando E perché? È un posto brutto No 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 Uh Una cosa Hai già trovato una cosa buona Un pesce Come sto? No Bello Vero? Molto Devo dire molto Sta benissimo direi Sì È vero Che non riesci a prendere sto bastone Va che bello Guarda l'ho trovato bene È bello Dai facciamo andare prima lui Sta registrando dove vai? Io Gli devo insegnare tutto Gli devo Visione di scala Bravi Ho fatto cagare ad osso Gli devo Gli devo Che c'è che c'è? C'è Il cantesimo È chiave della spada di pietra Buono Ma c'è malefica nel quadro È vero Malefica È vero col culo no col culo te lo dico ti voglio bene ma non così tanto intanto io sto facendo l'esplorazione io sono salito da qua giusto? si ok non c'è nient'altro? a provarci no non c'è nient'altro si si lo so lo so si me l'ho visto che cosa? io non so se non ci sono venuto con la mia partita sotto il quadro c'è un messaggio che ho scritto visioni di persona mingerlina non so dove stiamo andando io non l'avevo trovato a sto passaggio segreto Merli? no neanche ero troppo impegnata a smadonnare con questi che ero da sola e ero di livello un po' basso quindi non so dove cazzo siamo sinceramente è tutto nuovo è tutto nuovo simone non uccidere i pot cosa sono i pot? i basi ok non si possono neanche loccare quindi non penso che gli fassi uccidere talismano della scuola di pietra ok guarda che ti stanno eseguendo ma che cazzo volete? basetti di merda anche perchè ho trovato il loro villaggio ve l'ho detto? si a me lì si l'avevo detto a te no simone no tu di sicuro non l'hai trovato? no il villaggio con tutti i vasi e se l'avevo trovato erano gestinti ah 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 cosa? ah questa porta è quella porta sicuramente vediamo se è quella che ho trovato prima chiusa ma sicuro proprio guarda si proprio quella perfetto ok no non l'avevo trovata io immaginavamo si immaginavamo si si può salire ma qua si qua è pieno di pertugi quindi bisogna fare le rollatine ovunque io passerò rollerò su tutte le librerie allora ah c'è subito un boss così pronti via eh eh se no perdi la mano eh no l'ho fatto a intervalli regolari no vabbè andiamo mhm io mi guardo oh ma è proprio Sif ma no è come un tuffo nel passato eh e magari se mi fai curare cioè se mi fai fare qualcosa vabbè vai te lo tengo io cioè non è proprio Sif perché Sif non faceva tutte queste mosse ma è giusta questa cosa ma è giusta questa cosa no 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 Sono abbattuto, se devo essere sincero, molto abbattuto, perché ogni volta mi mettono i cazzo di lupi Mi dà fastidio, vabbè, lupo rosso di Radagon, ucciso, era easy questo anche da solo Ce l'ho fatta io da sola, appunto, fate voi Grazie